Paul Heyman secondo voi sta veramente aiutando Brock come sembra che ci stiano suggerendo è un po' come ha riportato il Bardo nei suoi video di Youtube oppure è solo un modo per ripistarci e Brock è la vera motivazione la data Cody Rhodes stanotte a Raw che ti riferisci quando dici la data Cody Rhodes la vera motivazione no che ha detto che si sente minacciato da lui insomma quella cosa lì quindi per voi è Paul Heyman che sta ancora lui muovendo le file che si è messo d'accordo con Brock che è ancora legato a Brock oppure è vero quello che ha scritto quello che ha detto Cody scusami e se la liberano così cioè è Brock che ha deciso così buona punto basta fine per te Brachias? ma allora le motivazioni passa a me il termine così che ha dato Cody che tra l'altro non dovrebbero arrivare da lui quanto dall'altra parte diciamo mi sono mi sembrato molto mettere una pezza nel dire prendiamo tempo per quando poi ci sarà Brock sperabilmente la settimana prossima perché da lui verranno le vere motivazioni di certo le motivazioni non le può dire colui che è stato aggredito detto questo detto questo guarda io credo che sinceramente ce lo stanno più facendo credere che altro a me sembra un po' un vero simile che con una storia del genere si concluda colui che che lo tradisce va dall'altra parte non so la vedo un po' così cioè secondo me sono loro che ci stanno un po' marciando sopra ti dico la verità tra l'altro questa cosa ha già capito se ti ricordi agli albori della Bloodline Gaiman stava con lui poi all'improvviso passo con Brock perché stavano usando il pericolo che Roman potesse perdere e poi lo tradì nuovamente passandogli la cintura tra l'altro secondo me insomma questa azione narrativa è passata anche un po' più in sordina di quanto meritasse però boh no elementi ci sono ma ti dico la verità spero di non vedere questa cosa che hai menzionato ma tra l'altro scusa mi concludo il ragionamento invece a Cody tu hai paura di me sei unsure sei insicuro ecco c'è una cosa che fa qua da tutte le parti cioè Brock non ha mai avuto paura di nessuno è andata a distruggere la streak di Undertaker cioè ma a Brestelman è andato Comos che per quanto fosse una pippa però c'era tipo tre volte a cui voglio dire cioè è stato campione UFC cioè direi roba di paura su Brock tra l'altro Cody si tradisce da solo quando dice così hai distrutto la stricca hai ammazzato questo hai ammazzato quell'altro hai fatto così ma tu hai paura di me è un cortisciuto logico cioè anche se gliel'hanno scritto sto dialogo pure lui poteva è seriamente una cosa da chiedere al Bardo se ha improvvisato oppure oppure se gliel'hanno scritto così sarebbe una di quelle cose da chiedere da chiedere al Bardo difficile da sapere però anche se gliel'hanno scritta e a mio parere lui poteva mitigare cioè se gliel'hanno scritto una cagata così illogica ma a livello elementare poteva tranquillamente bypassare un pochettino alleggerire dare l'accenno sulla sulle varie imprese di Brock però non dire quella frase standard tu hai paura di me tipo Ria Ripley a Charlotte in security cioè è quello mi faccio partire intanto ragazzi in chat il sondaggio se secondo voi Eman controlla ancora Brock oppure no sì o no tre minuti di tempo per votare il il sondaggio e quindi per te Eman c'è dietro ancora Eman a Brock oppure c'è ancora c'è una terza ipotesi voglio augurarmi che quello che ci stanno suggerendo a piccoli passi con lievi sospetti troverà poi riscontro pratico nel senso che è una cosa quanto meno plausibile verosimile che può anche avere a che fare poi con un tradimento di cui io non avrei tanto bisogno di Eman nei confronti poi di Roman quindi spero sia questo spero che la cosa che hanno iniziato a raccontare poi avrà un riscontro Doc ma qua non ce la ripeto non so cioè qua ci stanno mettendo una cortina di fumo cioè ci stanno dicendo un sacco di cose cioè perché hanno fatto perdere Cody senza senza che dopo che ci hanno hanno passato mesi a farci raccontare il contrario cioè adesso vogliono fargli vogliono fargli affrontare l'Eznar così senza niente per farlo riqualificare e questa cosa serve giusto a mettere non avrebbe senso che Eman tradisce Roma a Reigns per quale motivo cioè casomai Eman molla Reigns nel momento in cui perde perché Brock Lesnar sta perché Paul Eman si allea con i vincenti cioè non che fa perdere Reigns cioè sarebbe anche in modo di sminuire c'è Roma Reigns che fa mille giorni quasi di regno da campione e poi ti va a perdere per un tradimento di Paul Eman cioè non lascia cioè Roma deve perdere perché trova finalmente qualcuno di veramente forte più forte di tutto più forte della bloodline più forte di tutto che lo batte quindi poteva essere Cody non l'hanno fatto adesso ci becchiamo sta roba che è un qualcosa è un qualcosa che secondo me stanno improvvisando senza avere bene le idee chiare vedremo nelle prossime puntate ma a me ti ripeto di vedere questa cosa non ho molta voglia che questa è stata la parte meno interessante della puntata una domanda che fa Dark Stark che secondo me è interessante ma mettiamo il fatto cioè ipotizziamo che sia Eman dietro tutto Roman secondo voi lo sa? cioè lo sa per voi che c'è che ci può essere Eman dietro questa cosa qui oppure no e se lo sa come la può prendere? intanto Racciata ha votato no quindi secondo loro Eman non controlla ancora Brock per il 63% di voi Roman non dovrebbe saperlo perché Brock per lui è sempre stato un incubo nell'ultimo scontro ha pure detto basta mi hai rotto non ti voglio vedere più abbiamo chiuso qua quindi insomma narrativamente ma sappiamo bene che WWE addio narrativamente sti due dovrebbero non vedersi di buon grado e quindi collaborare o essere al corrente fra questi due io lo escluderei però se ti dicessero adesso poi magari un po' di dopo sento anche quello che hanno da dire gli altri due ragazzi però adesso mettiamo che arriva Eman da Roman e gli dice ascolta sappiamo benissimo che Cody ti avrebbe battuto io ti posso proporre di mettere fuori il gioco Cody però ti devi ripigliare Brock tu cosa cioè Brock di fatto te ne sei liberato con tutte le gravanti del caso e tutto eccetera eccetera però tu da Roman diresti più sì o no cioè nel senso anche come idea magari che dice che dice Poleman magari potrebbe dire cioè meglio un Brock che un Cody al momento se devi proprio fare una sfida cioè anche se sono nemici si sono nemici che si sono affrontati duemila volte però c'è anche da considerare che se 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 Poleman gliel'ha detto magari meglio che che ci rimettiamo in casa che ci rimettiamo contro Brock piuttosto che andare di nuovo contro Cody vado sempre fantasticando eh sì diciamo il fatto di coinvolgere Brock a me non piace eh al di là di tutto non mi è piaciuto la neanche la scelta di farlo entrare eh come tag team partner di di Cody anche qualora il match fosse andato fosse stato condotto da Face non mi entusiasmava eh figuriamoci adesso che c'è stato il tradimento e forse l'acquisizione nelle file di Heyman o della Bloodline cioè non ce lo vedo per niente quindi boh a me non fa un grande effetto onestamente eh Bracchius bella la Brockline Brocklo la Brockline è bella ma no Paru sinceramente non ho diciamo molto altro da dire perché al momento mi sembra un po' campata in aria vediamo che Roma non lo sa non lo sa cioè se lo sapesse sarebbe un doppio doppio gioco quindi nel caso riferendomi alla tua domanda secondo me non lo sa eh a merita del match casal questo rivento però finora abbastanza poco senso speriamo lo spieghino bene sì speriamo Dark eh Doc non credo che cioè Roma Reigns non viene proposto come uno che ha paura per cui non vedo perché cioè lui ti dice Lesnar l'ha già battuto l'ha già battuto ultimamente l'ha già battuto diverse volte a Summerstrom a Breast Armenia cioè ha trovato il modo oramai di sconfiggerlo cioè non credo che e Cody Rhodes l'ha comunque battuto perché Cody Rhodes comunque non ha cioè non ha saputo neutralizzare completamente la bloodline quindi cioè dal punto di vista prettamente della storia cioè Roman Reigns non ha nessuno che lo può battere in questo momento perché dovrebbe avere cioè può essere che Paul Heyman è è super cioè è super cauto e quindi vuole fare ma cioè non esiste cioè è un che ripeto è una cosa buttata lì vediamo come si evolve ma non ho molta non ho molta fiducia questa cosa qua è un'altra 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 cosa qua